Ciao a tutti, sono Padre Elio Filardo, ho 41 anni, vivo in Romania dal 2003, in una comunità che ha 100 km, km più, km meno da Bucharest, il luogo dove è situata la nostra comunità si chiama Maracineni, è un piccolo villaggio che è cresciuto ai margini di una grande città di Rumena di nome Pitești, lì in comunità siamo attualmente in quattro, siamo due italiani e due oblati rumeni e cerchiamo di vivere la nostra missione in armonia con la maggior parte della popolazione che in questa zona dove noi abitiamo è principalmente ortodossa. Qualcuno potrebbe dire ma a che gioco state giocando visto che la Romania è un paese cristiano, chi volete convertire, che cosa siete andati a fare in questo paese? Innanzitutto nel corso degli anni la prima esperienza che abbiamo fatto è stata quella di metterci a servizio della Chiesa Cattolica, per cui abbiamo avuto diverse opportunità per collaborare con i parroggi cattolici della nostra zona e quindi anche della nostra diocesi e anche di qualche diocesi limitrofa. Quindi abbiamo fatto delle attività di predicazione e di animazione all'interno delle parrocchie e poi abbiamo avuto anche la possibilità di svolgere, di realizzare alcune missioni popolari. Un dato abbastanza significativo visto che questa esperienza della missione popolare secondo la metodologia oblata è qualcosa di profondamente nuovo per l'ambiente cattolico rumeno e quindi anche per l'ambiente ortodosso. Poi nel frattempo la comunità è sempre stata attenta ai bisogni dei giovani e quindi alla pastorale giovanile. Quindi inizialmente abbiamo lavorato soprattutto con i giovani delle parrocchie cattoliche. Poi successivamente grazie ad una serie di circostanze siamo riusciti a coinvolgere nella nostra esperienza anche tanti giovani e ragazzi ortodossi. Questa credo che sia attualmente l'esperienza più significativa che passa attraverso potremmo dire tre canali. Il canale principale è quello delle attività residenziali come campi scuola e Grest mini campi scuola all'interno della nostra casa e poi l'accoglienza dei giovani che vengono a utilizzare la nostra struttura sportiva e l'accompagnamento e l'aiuto nei confronti dei ragazzi che hanno bisogni speciali e che sono inseriti nelle scuole. Tornando al primo servizio che svolgiamo per i ragazzi ortodossi vorrei dire che questa esperienza nasce soprattutto grazie alla fiducia che le famiglie ortodosse ci danno mandando a casa nostra per periodi abbastanza prolungati i loro figli per fare delle esperienze di campo scuola. Qualcuno le definisce come delle esperienze di formazione umana ma in realtà soprattutto per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni sono anche delle esperienze spirituali, delle esperienze di formazione cristiana e direi anche di formazione ecumenica perché cerchiamo di vivere e di comunicare la nostra fede, di condividere la nostra fede partendo proprio da ciò che è comune tra di noi, quindi tra di noi cattolici e ortodossi. Questa esperienza quindi non è da catalogare o da classificare come un'esperienza di carattere puramente filantropico ma come un'esperienza veramente di vita cristiana. Questo anche perché le famiglie che ci affidano i loro ragazzi per alcuni giorni, sebbene sia un periodo breve, è basata sulla fiducia e sul rispetto e soprattutto anche sulla trasparenza perché alle famiglie viene detto chiaramente che nel corso di queste esperienze noi cercheremo di condividere la nostra fede, quindi non ci limitiamo solo a fare delle attività coinvolgenti da un punto di vista pratico ma cerchiamo anche di condividere veramente quello che al centro è la nostra fede che è la persona di Gesù e lo facciamo in maniera semplice attraverso la vita e soprattutto stimolando ciascuno a condividere quella piccolissima esperienza che riesce a fare del Vangelo nella vita quotidiana. Quindi direi che questo tipo di servizio che noi rendiamo alla Chiesa e anche in maniera indiretta alla Chiesa ortodossa è qualcosa che costruisce adesso e costruisce anche per il futuro perché quello che noi stiamo realizzando credo che sarà qualcosa di importante per il futuro quando chissà forse le Chiese arriveranno a trovare la piena unità. Perché stiamo in qualche modo accompagnando dei ragazzi di diverse confessioni a comprendere come è possibile costruire anche la società a partire dai valori cristiani. Poi come dicevo un altro canale attraverso il quale noi cerchiamo di rendere un servizio ai giovani è quello di mettere a disposizione dei ragazzi le nostre strutture sportive. soprattutto all'inizio qualcuno ci chiedeva quanto costasse quello che noi facciamo qual è il prezzo che cosa dobbiamo dare e noi abbiamo sempre detto che quello che facciamo è gratuito e quindi è disponibile per tutti chiunque può accedere ai nostri servizi e quindi in qualsiasi momento è possibile godere di queste cose che forse a volte manco lo Stato mette a disposizione in maniera così gratuita. E questa è un'esperienza significativa perché in Romania si paga tutto e si paga anche di più rispetto a quello che sarebbe giusto perché a volte bisogna aggiungere qualche attenzione, qualche supplemento invece da noi tutto è gratuito per chiunque. E questo mi sembra anche questa un'esperienza importante perché ci aiuta a trasmettere alla gente che la nostra ricchezza è nella condivisione, non è nell'accaparramento, nell'accumulo. E poi il terzo servizio che noi rendiamo ai giovani è questo accompagnamento, questo aiuto ai ragazzi che hanno bisogni speciali e sono inseriti nelle scuole di massa. Fino a qualche anno fa i ragazzi che avevano dei bisogni speciali venivano mandati nelle scuole speciali per cui in delle scuole dove c'erano ragazzi uguali a loro con sicuramente un grande aiuto da un punto di vista professionale perché questi ragazzi erano seguiti da persone competenti però nel stesso tempo con limitati nella possibilità di interagire con persone che fanno parte del resto della società. Per cui vivevano nel loro piccolo mondo. Da qualche anno invece è possibile entrare nelle scuole, però le scuole ancora non sono perfettamente preparate per la loro accoglienza e soprattutto per la loro inclusione. L'integrazione sì è possibile, però l'inclusione, cioè la partecipazione attiva al processo di apprendimento a volte è un po' più limitata proprio perché le insegnanti non sono preparate per questo tipo di lavoro. Allora noi da qualche anno attraverso anche il sostegno e la collaborazione dell'AMMI di Catanzaro abbiamo messo su dei progetti per intensificare e qualificare l'inclusione di questi ragazzi nelle scuole. Tornando alla domanda di prima, a che gioco stiamo giocando? Stiamo giocando fondamentalmente al gioco della condivisione. Forse per alcuni, per molti, la missione può essere intesa come annuncio a tappeto di alcune verità di carattere religioso. Però la missione, così come ce l'ha insegnata anche Gesù, è innanzitutto condivisione di ciò che si ha. Per cui noi siamo lì innanzitutto per condividere ciò che siamo e quindi le nostre persone, il nostro modo di essere, per condividere la nostra fede e perché no anche per condividere i nostri sogni che sono quelli di costruire una società dove è veramente possibile godere della ricchezza e per la ricchezza dell'altro. Qualcuno qualche anno fa mi ha detto che gli sembrava di essere in paradiso a casa nostra, vedendo il tipo di accoglienza che viene riservata ai ragazzi e il modo in cui noi portiamo avanti le nostre attività. Sulla base di questa reazione io spesso dico che il paradiso a noi comincia realmente quando c'è qualcuno che viene da noi ad accompagnare il proprio figlio o i propri amici e comincia a mettersi al servizio degli altri indipendentemente dalla religione, indipendentemente dal fatto che li conosco meno, allora lì comincia il paradiso perché effettivamente si sta donando gratuitamente a qualcun altro.